Sì, è veramente come essere al primo giorno di scuola con la grande emozione, ma soprattutto il grande senso di responsabilità che oggi ci vede tutti i partecipi in un momento di grande preoccupazione nazionale e internazionale. Paola Mancini, Fratelli d'Italia. Cosa c'è in questo kit? Ripeto, c'è la Costituzione, c'è il regolamento nel Senato, poi ci sono tutta una serie di brochure sul regolamento, sul funzionamento, su alcuni adempimenti che dobbiamo fare entro il 20 ottobre che ovviamente poi dobbiamo completare e rimandare indietro, quindi noi studiamo di continuo. In bocca al lupo ai nuovi eletti, contenta, abbiamo fatto sicuramente un ottimo risultato, quindi una sfida importante dall'opposizione. Io sicuramente potrò dare qualche consiglio considerando che la mia prima legislatura è stata in opposizione, quindi un in bocca al lupo ai nuovi eletti e spero grande responsabilità da parte di tutti, anche da parte di questa neomaggioranza. Io ho diversi obiettivi di carattere territoriale per i quali mi sono impegnato già in campagna elettorale. Cos'è il nome Antonio? Il giannone Antonio. La giustità che una guida forte e determinata possa dare una mano a superare questo tornante della storia del tutto.